Partecipa a Blue Crown Funding, aiutaci a pulire il mare. Il mare 1 è. Con questo appello lanciato dai testimoni al Giobbe Covatta e Moreno Cedroni, sono partite una raccolta fondi e la campagna di comunicazione per liberare il mare dalla plastica, tutelare la fauna itica e la filiera alimentare. Si tratta di una raccolta civica unica nel suo genere che invita la sensibilità collettiva in un progetto concreto, innovativo e di sensibilizzazione di cui la regione va particolarmente fiera. Questo è il commento del vicepresidente Mirko Carloni alla presentazione di lancio che si è tenuta ieri mattina a Fano. Infatti la sperimentazione è la prima nel suo genere promossa dalla regione e dalla società Svim, oggi Svem, ed è un progetto cofinanziato da un programma di cooperazione territoriale europea. Siamo molto orgogliosi di poter annunciare questo progetto di New Cross Running che in qualche modo coinvolgerà la nostra produzione perché Garbage, l'università e tutti i soggetti che hanno lavorato a questo progetto compresa Svim Sono soggetti marchigiani che hanno messo insieme una barca con tutte le certificazioni tecniche per poter raccogliere la plastica. Questo tema credo che faccia la differenza tra il dire e il fare. Noi dobbiamo mettere in piedi nell'ambito della Blue Economy, della sostenibilità ambientale ma anche economica, un progetto che ci vede protagonisti. In questo caso saranno le marche a dare una soluzione di raccolta della plastica in mare a tutto il resto del mondo, quindi è qualcosa davvero molto importante. Intanto invito tutti a partecipare alla piattaforma al Cross Running anche con cifre basse però per dare un sostegno a questo progetto. E poi dobbiamo essere bravi a creare una filiera produttiva di questo tipo di imbarcazione che verrà venduto in tanti paesi e sarà un esempio di come si può migliorare l'ambiente in mare. Il progetto ha poi sottolineato Gian Mauro Melis, amministratore unico di Svem, coinvolge 13 partner di 9 paesi europei e punta alla salubrità del mare con un occhio di riguardo per tutto l'indotto del turismo e della ristorazione, anche per rendere sempre più appetibile questa porzione di Adriatico e le nostre città. Un progetto che fondamentalmente ha quattro aree cardine, la prima è un'area fragile individuata nel Conero e le altre sono le città che hanno appunto valenza turistica importante con centri urbani importanti come Fano, come Senigallia, come Civitanova. E quindi siamo molto felici di portarlo io personalmente, poi a Fano che è la mia città, partire proprio da qui per centrare l'obiettivo dei 40.000 euro che è l'obiettivo minimo per questa porzione di mare. Qualora appunto come noi ci aspettiamo il crowdfunding avesse ulteriore successo potremmo ampliare questa zona di mare e quindi rendere un servizio ancora migliore, ancora più importante per la nostra regione.